Gli Imagi Dragons tornano in concerto in Italia in un'unica data, in programma il prossimo 11 giugno del 2022 e questo accadrà sul palco degli High Days, ipodromo Milano Trenno. Il tour del 2022 inizierà il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, e proseguirà così negli stadi delle principali capitali europee e nei festival più prestigiosi. Gli Imagi Dragons hanno venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e totalizzato 74 miliardi di stream sulle piattaforme di streaming. Gli Imagi Dragons mancano in Italia dall'estate del 2019, quando si esibirono sul palco del Firenze Rock. Grazie per la visione! Grazie per la visione!